BIMAR VR28 Refresh 3 in 1 Raffrescatore, ventilatore e purificatore d'aria Gli 8 litri d'acqua garantiscono fino a 12 ore di aria fresca Indicatore livello d'acqua nel serbatoio La fascetta in velcro trattiene avvolto il cavo Pannello comandi con selettore per regolare le tre velocità Tasto per azionare l'oscillazione automatica destra e sinistra e tasto per attivare la funzione rinfrescante Grazie alla tecnologia 4K, i quattro filtri in fibra di cellulosa ad alveoli vengono costantemente irrorati d'acqua e l'aria che li attraversa viene pulita e raffreddata I prefiltri trattengono le impurità maggiori La tecnologia 2D dei filtri garantisce un'omogenea distribuzione dell'acqua Refresh abbassa la temperatura dell'aria da 4 a 10 gradi centigradi Flusso d'aria di grandi prestazioni grazie al ventilatore tangenziale La griglia frontale permette un'oscillazione automatica a destra e sinistra e i due deflettori alto e basso dirigono l'aria in modo preciso Tutti i filtri sono rimovibili e lavabili Le maniglie laterali ne agevolano lo spostamento Grazie a tutti Grazie a tutti